Rieccoci dalle consiglie regionali, tra l'altra cosa siamo ora di cena, siamo attorno alle 20 per cui c'è un profumino che arriva da certe ore del consiglio che non è facile. Allora Sara Vito tu hai tutta la parte dedicata all'ambiente, alle rinnovabili, rischio idrogeologico, a me non mi viene mai. Allora i tuoi punti sono già stati approvati, nel 2014 il tuo assessorato che cosa ci propone? Allora diciamo che abbiamo fatto alcune scelte pur nella contingenza di un momento difficile perché questo è, stiamo parlando di una finanziaria non semplice, che quindi appunto ha portato alla necessità di fare delle scelte e le scelte che ho pensato di fare sono andate in una direzione molto chiara che per quanto riguarda appunto il mio assessorato punta sulla prevenzione del rischio idrogeologico. E' un argomento estremamente importante, era assolutamente necessario secondo me dare un segnale anche politico forte, di discontinuità con il passato e che permettesse diciamo di iniziare una programmazione che dovrà essere una programmazione di mandato perché stiamo parlando di risorse comunque importanti, di un settore che essendo stato trascurato ha chiaramente bisogno di un segnale come dicevo prima abbastanza disvolta. Le risorse per le manutenzioni degli alvei quindi dei corsi idrici della nostra regione per quanto riguarda la parte proprio di manutenzione ordinaria quindi la vera cura del territorio, sfalci, pulizia degli argini e tutto quello che attiene a un buon benessere del territorio sono state più che raddoppiate rispetto all'inizio dell'altro anno. Cioè da 1.200.000 euro dall'inizio del 2013 sono ad oggi più di 2.700.000 euro quindi direi più che raddoppiate dando un segnale chiaro anche a una nuova dignità dell'assessorato all'ambiente. Poi altri due argomenti importanti, uno è quello relativo al rapporto con l'ARPA, sapete che l'ARPA è un soggetto diciamo terzo, un soggetto tecnico che supporta la direzione ambiente per tutto ciò che sono le valutazioni ambientali pur nel contenimento un po' della spesa e nel suo inizio di riorganizzazione è una posta di bilancio molto importante quindi parliamo di più di 20 milioni di euro. Hai parlato di ARPA quindi parliamo proprio anche di grandi problemi dell'inquinamento che insieme a Presidente Deborah Soracchiani e a Bolzonello anche dovrete affrontare perché di stabilimenti che inquinano abbiamo un libro, possiamo fare il libro dei siti inquinanti. Ma diciamo che ci sono delle criticità in questa regione, ci sono però anche diciamo che c'è un'attenzione comunque proprio per un discorso chiaramente di tutto l'ambiente e della salute. L'ARPA in questo senso ci sta dando un grosso, ci sta dando ma negli anni ormai ha consolidato questo suo ruolo di appunto supporto, come dicevo prima, supporto tecnico all'attività della direzione ambiente. Una cosa che ricordo però è che ad esempio per quando si parla di impianti quindi di stabilimenti anche che possono avere una certa pericolosità ricordo che la nostra regione ha un ritardo di 14 anni nell'approvazione di una legge che sarebbe la legge Seveso praticamente a livello regionale. E' una cosa sulla quale stiamo lavorando proprio per colmare finalmente questo vuoto normativo che insomma penso che non sia più in alcun modo giustificabile. Nonostante le risorse molto risicate, soddisfatte per quello che si poteva fare? Ma direi di sì, abbiamo come dicevo prima fatto delle scelte però ad esempio sul settore ambientale finalmente dare un segnale chiaro di lavoro in termini di prevenzione penso che sia una cosa importante. Un'altra cifra significativa è quella relativa alla scontistica per i carburanti, abbiamo garantito ancora questo sostegno del settore fino all'assessamento sostanzialmente, fino alla prossima estate. In modo da perlomeno garantire questa contribuzione a favore delle fasce di comuni già interessati dalla legge 14. E' una cosa sulla quale questa maggioranza si era già sospesa, aveva già dato delle indicazioni e nel prossimo anno comunque potrà essere oggetto di valutazioni nuove. Ringraziamo Sara Vittorio, ritorniamo in sede per le altre notizie.